Da 50 anni di esperienza a stil bagno nasce Camer. Loro fanno divertire i bambini da ben quattro generazioni. Sono convinti che portare gioia ai piccoli porti gioia anche a loro. Non sempre così però. Nei giorni scorsi le giostre di Rodighiero al Parco delle Torri a Tirano sono state prese di mira da ragazzini svogliati che al calar della notte hanno distrutto con sprezzo le reti di un gioco e spaccato i passeggini dei figli, dei proprietari, delle macchine e del divertimento senza capirne il valore. Un gesto deplorevole che ha molto amareggiato la famiglia Rodighiero. Sono qui a Tirano con il Luna Park per questo gesto che è stato fatto, deplorevole. Ci dispiace molto perché noi portiamo la gioia in tutti i paesi e questo gesto è stato brutto per noi perché noi portiamo la felicità ai bambini vogliamo fare e divertire e ci piace divertirci anche noi guardando loro che si sorridono sulle nostre giostre. Un fascino intramontabile è quello delle giostre che rimanda a quel tempo lontano dell'infanzia dove ognuno di noi per alcuni attimi può tornare bambino prezioso insegnare a rispettare la cosa pubblica quel senso civico di appartenenza alla comunità del resto la più importante scuola di vita resta sempre la città un modello educante privilegiato. Speriamo che queste cose non accadano più e vi aspettiamo a Tirano tutti i giorni fino a Pasqua.